è tipo pieno di dossi come siamo pronti ciao ragazzi a tutti questo video serve a spiegarvi che cos'è kickstarter che cos'è kickstarter per chi non lo sapesse è una piattaforma che serve a raccogliere fondi per sviluppare una determinata idea che può essere un libro un film una linea di abbigliamento un prodotto tecnologico qualsiasi cosa basta che abbia basi solide come funziona ogni creatore carica il proprio progetto aggiunge una descrizione lo correla di foto e video in modo da essere il più esplicativo possibile e viene poi successivamente stabilito un budget questo budget sarà la cifra di cui ogni creatore ha bisogno per poter far partire il proprio progetto il periodo di finanziamento varia fino ad un massimo di due mesi una volta che il progetto viene compilato in tutte le sue parti va in approvazione viene visionato dal team di kickstarter dopodiché viene pubblicato una volta che il progetto viene pubblicato chiunque può decidere di andare a visionare il progetto e decidere di fare una donazione queste donazioni possono essere libere da 50 centesimi fino a infinito oppure secondo una serie di ricompense che vengono stabilite sempre dall'autore queste ricompense possono spaziare da merchandising stickers partecipazione al progetto kickstarter applica la filosofia del tutto o niente cosa vuol dire se il progetto non raggiunge la cifra target non viene finanziato cosa significa che le donazioni vengono perse assolutamente no tutte le donazioni tornano ai rispettivi donatori inoltre kickstarter si riserva il diritto di trattenere il 5 per cento del budget finanziato durante la campagna di promozione il pubblico viene costantemente aggiornato per far sì che i donatori siano appunto partecipi del processo creativo nel prossimo video vi parleremo del nostro progetto kickstarter